Questa è una domanda che colpisce da sempre la salvezza degli uomini e di tutti i uomini. La Chiesa è il luogo della salvezza che è stata portata da Cristo. Ma questo non vuol dire che è una salvezza che esclude i non cristiani. E il contrario è una salvezza che include tutti. La Chiesa è detta cattolica, cioè in greco significa universale, perché è per tutte le genti. Noi siamo stati chiamati a andare a battezzare nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo il mondo intero. E i padri della Chiesa dicevano questa frase, che fuori della Chiesa non c'è salvezza. Perché la Chiesa è il sacramento di salvezza, è il luogo, è il segno della salvezza che è portata da Cristo. Ma questo non significa che siamo noi i detentori della grazia di Dio, della sua misericordia. Capite bene questo. Solo Dio può farlo. La Chiesa continuerà a annunciare il Vangelo a tutti, a predicare, a portare la buona notizia. Ma sarà Dio a giudicare ogni anima. Noi sappiamo che l'uomo giusto sicuramente non viene condannato. E poi, davanti al Signore, noi dovremmo dire di sì o di no. Anche un cattolico che dice di no, andrà in inferno, non in paradiso. Quindi il problema è arrivati lì. Il tuo sì, la tua apertura a Dio o la tua chiusura. Perché, come sapete, la Chiesa non ha mai detto chi è in inferno. Ha detto chi è in paradiso, ha riconosciuto alcuni come santi. Ma non ha mai detto chi sta in inferno. Perché questo, fino alla fine, non si sa. È l'uomo davanti a Dio che decide di accettare o rifiutare la sua misericordia e il suo amore. E quindi noi non siamo dententori di questa grazia. La Chiesa è solo segno di questa salvezza.